La crisi dell'agricoltura in Sicilia ha invocato una moratoria sui debiti per tre anni e il blocco delle procedure di esecuzione da parte delle banche. Gero Miciche. Il comparto agricolo in Sicilia è colpito da una crisi senza precedenti che nel 2015 ha registrato punte di gravità assoluta, complici anche le inaccettabili inadempienze del governo regionale in merito al pagamento dei contributi del Bando 2013 sull'agricoltura biologica. E quanto premettono i senatori siciliani del gruppo Alleanza Libera al Popolare e Autonomie Giuseppe Compagnone, Antonio Scavone e Giuseppe Ruvolo che poi, rivolgendosi tramite un'interpellanza urgente firmata anche da altri parlamentari ai ministri Maurizio Martina all'agricoltura, Federica Guidi allo sviluppo economico e Piercarlo Padoan all'economia, aggiungono Il governo metta a punto un provvedimento di sospensione per tre anni sulla riscossione di tutti i debiti generati in agricoltura tra cartelle Serit, debiti IMSS, INAIL e altro e in Sicilia si hanno sospese anche tutte le procedure di esecuzione attivate dal sistema bancario. Gli agricoltori, spiegano i senatori verdiniani tra cui l'agrigentino da Ribera, Giuseppe Ruvolo non sono più in grado di far fronte al pagamento delle imposte si sono indebitati e di conseguenza si sono moltiplicate le iscrizioni a ruolo dei mancati pagamenti e le azioni esecutive sono fallite tantissime aziende e sono stati attivati procedimenti penali nei confronti dei soggetti per i quali l'omesso pagamento è fonte di sanzione penale insomma una situazione insostenibile in una regione come la Sicilia in cui l'agricoltura riveste un'importanza fondamentale e strategica e rappresenta il sostentamento per moltissime famiglie oggi in ginocchio il governo studia una serie di provvedimenti per scongiurare il crollo e l'intero comparto con i disagi sociali drammatici che ciò provocherebbe nel frattempo l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici ha firmato un decreto per lo stanziamento di 15 milioni di euro attraverso la Crias, che è la Cassa regionale per il credito alle imprese da destinare al fondo per le scorte agricole e ha concordato con il ministro Martina l'avvio di un tavolo di programmazione a favore del settore ortofrutticolo siciliano